Le lesioni meniscali rappresentano una patologia articolare frequente e notevolmente temuta dagli sportivi. Questo è particolarmente vero in quei tipi di sport che prevedono impatto ripetuto a livello delle estremità inferiori, come ad esempio il calcio o il basket, e movimenti di pivoting, ossia rotatori a livello del ginocchio. Questo può essere infatti l'origine di una rottura del menisco, tanto interno quanto esterno. Il trattamento di queste lesioni non è sempre lo stesso. Infatti, come vedremo in dettaglio, a seconda di determinati parametri e di certe caratteristiche, può essere più indicato talvolta un trattamento di tipo conservativo, mentre in altri casi può essere necessario procedere con un trattamento di tipo chirurgico. Ed è proprio a questo aspetto che ci dedicheremo nel video di oggi. Salve a tutti, io sono Stefano Teramo e questo è OrtoStrike. Il ginocchio, che gran articolazione. Da un punto di vista osseo è costituito dalla tibia, che va a formare prossimalmente l'articolazione tibio-peroneale con il perone prossimale, e proprio tra la tibia ed il femore si localizzano i menisco, il menisco esterno, laterale, menisco interno o mediale. Il menisco interno, come vedete, ha una forma più simile a una C, mentre l'esterno più simile a un A. Nei versanti laterali al ginocchio si localizzano i legamenti collaterali, interno ed esterno. Mentre a livello del pivot centrale si localizzano i legamenti crossati anteriore e posteriore, che come dicono in loro nome, costituiscono, se li sovrapponiamo l'uno all'altro, una conformazione di tipo crucifo. Poi ritroviamo in tutta l'articolazione un strato cartilaginoso che va a coprire tanto la superficie femorale quanto quelle tibiale rotulea. La rotula, infatti, va a costituire nella porzione anteriore del ginocchio l'articolazione femoro-rotulea. Un'anatomia affascinante. Arriviamo a un punto fondamentale per comprendere correttamente perché noi ortopedici talvolta stiamo per indicare in un paziente un trattamento di tipo conservativo, mentre in altri casi decidiamo di procedere chirurgicamente con una artroscopia. Oltretutto, come vedremo, è possibile artroscopicamente eseguire due varianti fondamentali di intervento chirurgico. Una è costituita dalla meniscectomia parziale, che significa fondamentalmente asportazione di una porzione determinata di menisco. In altri casi invece decidiamo di procedere con una sutura o riparazione meniscale. Per comprendere correttamente questi criteri e questi principi è fondamentale conoscere degli aspetti di tipo anatomico e soprattutto vascolare. Infatti, tanto il menisco interno come il menisco esterno presentano, dal punto di vista anatomico, una conformazione e soprattutto una irrorazione sanguigna che fanno sì che non sia affatto indifferente la tipologia morfologica e soprattutto la localizzazione della lesione meniscale nel momento in cui decidere se operare in un modo o nell'altro. Cioè dovuto alla peculiare irrorazione sanguigna del tessuto meniscale. Infatti, i vasi sanguini che penetrano nel menisco lo fanno da fuori verso dentro, ovvero dalla porzione periferica procedono in modo centripeto verso la parte più centrale del menisco e vanno via via diradandosi perdendo densità. I rami vascolari principali si trovano nell'unione meniscocapsulare e da questi tronchi principali si diramano perpendicolarmente dei vasi meniscali propri la cui densità va riducendosi progressivamente da fuori verso dentro. Come possiamo apprezzare nella sezione trasversale dello schema, l'irrorazione sanguigna del tessuto meniscale è eterogenea. Infatti ci sarà una zona più periferica che denominiamo zona rossa, più ricca in apporto ematico, e una zona centrale che denominiamo zona bianca, povera, di vasi sanguigni. Tra queste due individuiamo una zona di transizione che definiamo rosso-bianca dotata di un apporto ematico intermedio. Questo gradiente decrescente di perfusione ematica da fuori verso dentro risulta fondamentale, perché apporto ematico è sinonimo di apporto di ossigeno e nutrienti ai tessuti che permettono un maggior potenziale riparativo e una migliore prognosi in caso di lesione meniscale sottoposta a riparazione mediante sutura. L'eziologia, ossia l'origine di una lesione meniscale, può essere degenerativa o traumatica. Le lesioni meniscali di tipo degenerativo sono dovute fondamentalmente a fenomeni di usura e di degenerazione progressiva del tessuto meniscale in un contesto preartrosico, quindi in un contesto prodromico e preliminare allo sviluppo di una degenerazione delle strutture articolari che porteranno a lungo termine, nella maggior parte dei casi, a un quadro artrosico. Tali lesioni degenerative possono essere più o meno sintomatiche e nella maggior parte dei casi non richiedono trattamenti di tipo chirurgico, giacché non producono una sintomatologia meccanica rilevante a livello dell'articolazione. Oggi risulta molto più interessante valutare la genesi e le ripercussioni delle lesioni di tipo traumatico a livello dei menischi. Queste risultano essere particolarmente frequenti in un settore di pazienti caratterizzato da un'età relativamente giovane, fra i 20 e i 45 anni nella maggior parte dei casi, e soprattutto in quella tipologia di paziente dedicato ad attività sportive caratterizzate principalmente da impatto ripetuto e da movimenti di pivoting, ossia torsionali a livello delle ginocchia. Tali movimenti torsionali risultano sovente critici nella genesi delle lesioni meniscali. Di fatto la lesione meniscale viene molte volte prodotta dall'applicazione a livello dell'articolazione di un momento rotatorio, torsionale, che produce un aumento dei carichi meccanici a livello della struttura tissutale del menisco e una soluzione di continuità che sta all'origine della lesione. Lesione che può essere una lesione meniscale isolata, interna o esterna, o talvolta essere addirittura una lesione meniscale associata ad altre rotture di strutture articolari, come per esempio il legamento crociato anteriore o uno dei legamenti collaterali. Come detto, un elemento cruciale da considerare è la morfologia, ovvero la forma, la struttura della lesione del menisco. In questa prima immagine possiamo apprezzare l'integrità di un menisco interno sano. Tuttavia, passando alla seconda immagine, si può apprezzare la presenza di una lesione, in questo caso la definiamo radiale, una lesione che va a coinvolgere a tutto spessore il menisco procedendo dalla periferia verso il centro. Per caratteristiche meccaniche questa lesione non è fra le più instabili, giacché difficilmente va a produrre un'interferenza meccanica nella cinematica articolare femorotibiale, cosa che invece può accadere con molto maggior frequenza in lesioni di tipo longitudinale, come questa che vediamo rappresentata in questo caso nella periferia del menisco, quindi in zona rossa, o quest'altra dove la lesione longitudinale, quindi la lesione a tutto spessore, si irradia da anteriore a posteriore senza arrivare al margine libero del menisco a coinvolgere la zona bianca. Questo è un elemento di differenza critico, giacché come abbiamo detto poc'anzi la zona rossa presenta una irrorazione ematica molto più rappresentata e quindi potenziali riparativi molto molto migliori rispetto alla zona bianca in caso di sutura del menisco. Queste lesioni longitudinali che producono una notevole instabilità e tendenza all'interferenza meccanica vengono definite anche lesioni a manico di secchia. Da un punto di vista clinico questa morfologia di lesione può facilmente produrre, oltre alla tipica sintomatologia dolorosa meniscale localizzata all'interlinea articolare interna o esterna, anche degli sporadici o costanti episodi di blocco articolare dovuti all'interferenza cinematica del frammento instabile a livello femorotibiale. Passando a questo esempio possiamo avere anche una lesione di matrice degenerativa, una lacerazione a livello dei tessuti meniscali, mentre in quest'altra immagine abbiamo modo di osservare quello che definiamo flap meniscale. È fondamentalmente una lesione in zona bianca del menisco che produce la presenza di un segmento instabile svincolato dal corpo stabile del menisco e potenzialmente foriero di pinzamento e conflitto a livello articolare. Questo tipo di lesione viene normalmente trattata con una meniscettomia parziale rimuovendo semplicemente la porzione instabile risolvendo in tal modo la sintomatologia. Con il passare degli anni ad accumularsi di evidenza scientifica circa l'impatto di una meniscettomia parziale o subtotale sul posteriore sviluppo di fenomeni artrosici degenerative a livello dell'articolazione, soprattutto a livello della cartilagine, a livello della comunità scientifica internazionale si è diffusa sempre più la tendenza a raccomandare salvaguardare il menisco, salvarlo quanto più spesso possibile, evitando ogni qualvolta ce ne sia l'opportunità di realizzare meniscettomia. Questo è particolarmente indicato in lesioni con scarse conseguenze di tipo meccanico come possono essere le lesioni radiali o lesioni meniscali che ricadono in zone non di carico e che possono essere quindi indirizzate a un trattamento di tipo conservativo. Il trattamento conservativo è costituito da cicli di fisioterapia e riabilitazione il cui principio fondamentale risulta essere il rinforzo della muscolatura con una particolare attenzione al quadricipite, soprattutto nelle sue componenti retto anteriore e vasto mediale o laterale, a seconda della lesione meniscale interna o esterna del paziente. È un costante paziente lavoro di propriocezione nel corso dei mesi per migliorare e implementare la stabilità e la percezione di equilibrio articolare soggettivo con l'obiettivo di permettere al paziente l'ottenimento di una buona tolleranza clinica e funzionale della lesione meniscale. Tuttavia purtroppo non sempre ciò risulta essere possibile, infatti alcune lesioni meniscali richiedono d'un vlè un trattamento di tipo artroscopico, quindi chirurgico, in seguito alle proprie caratteristiche di instabilità meccanica e alla intensa sintomatologia articolare che patisce il paziente con relative limitazioni funzionali. In tal caso intraoperatoriamente risulta essere cruciale la decisione sul tipo di trattamento, procedere con una meniscettomia parziale rimuovendo solo un piccolo pezzetto di menisco per risolvere la sintomatologia o procedere con il salvataggio del menisco realizzando una sutura, quindi una riparazione meniscale. Ciò viene deciso nella maggior parte dei casi direttamente in sala operatoria in seguito alla valutazione di alcuni parametri come la morfologia, la localizzazione, l'età del paziente, quanto più giovane più si cercherà di procedere con il salvataggio mediante sutura ed anche lo stato profico del tessuto meniscale. Infatti un tessuto meniscale degenerato e usurato non si presta particolarmente a una riparazione, presenta una scarsa evoluzione prognostica in caso di sutura e per questo ciò va tenuto in conto nel momento in cui si decide se tentare o meno la riparazione mediante sutura. Ma questo è un altro aspetto e ci dedicheremo in dettaglio a tali tematiche di tipo chirurgico nei nostri prossimi video di OrtoStrike. Grazie mille per la vostra attenzione. Vi do appuntamento ai prossimi video di OrtoStrike in cui tratteremo le varie tecniche chirurgiche che possono essere applicate in sala operatoria in caso di lesioni del menisco. Colgo l'occasione per ricordare a chi fosse interessato che metto a disposizione dei miei pazienti un servizio di visite online attraverso il mio sito web www.stefanoteramo.com e mediante il sito internet www.dottoralia.es. Grazie Grazie mille e alla prossima Grazie mille Grazie mille